Parliamo ora di economia, sono stati presentati alla CNA di Ancona tre nuovi bandi regionali per le imprese. Ce ne parla Roberta Balzotti. Moda e arredo, ricerca e innovazione digitale, economia circolare. Sono questi i tre ambiti per il finanziamento di attività e progetti ai quali fanno riferimento i nuovi bandi della regione presentati a una platea di oltre 100 imprenditori e imprenditrici alla CNA di Ancona. Il primo, per il quale sono disponibili quasi 5 milioni e 700 mila euro all'obiettivo di rafforzare e rilanciare la presenza sui mercati internazionali delle piccole e medie imprese marchigiane del comparto del legno mobile e della moda incentivando progetti che prevedono interventi integrati di innovazione e internazionalizzazione. Il secondo, ci sono 13 milioni e 500 mila euro, favorisce gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale della specializzazione intelligente ossia salute e benessere, smart living e manifattura sostenibile. Il terzo, disponibile 1 milione e 900 mila euro, sostiene le imprese per la realizzazione di progetti basati sul concetto di economia circolare ossia ridurre, riusare e riciclare. L'assessore regionale alle attività produttive Emanuella Bora ha spiegato che negli ultimi anni sono stati attivati oltre 552 milioni di euro dai fondi europei 2014-2020 per 1.200 imprese marchigiane. La presentazione dei bandi è stata anche l'occasione per presentare il Market Innovation Hub per aiutare le imprese nei percorsi di innovazione e sviluppo.